Nome? Tommaso. Cognome? Krivicic. Soprannome? Tommy. Anni? Venti. Che cosa studi? Lettere moderne. Passioni particolari? Basket. Per cosa ti candidi? Per il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Di cosa si occupa? Si occupa di didattica, ricerca, diritto allo studio e tasse. Con quale lista ti candidi? Ateneo Studenti. Come va? Come va? Come va? Sai già vota qua, vota qua, vota qua. Non so ancora cosa sia ma so che ora tu mi chiederai. Consiglio Nazionale a Studenti Universitari. Per il CNSU. Puoi votare anche tu. una X ed è pronto. Oh, vota la lista 3. Puoi votare Tommy, Tommy. Come se ci fosse solo Tommy, Tommy. Lista 3. Vota proprio Tommy, Tommy. Il tuo soggetto è questo qua, questo qua, questo fa. Sai già chi vota, chi vota, chi vota, chi vota. Tu dici al portello c'è un banchetto, ecco qua il programma ed è perfetto. Se anche tu vuoi tommi incaricati, se poi se non ti preoccupare, i tuoi diritti lui rappresenterà. Mi chiede come va, come va, come va, come va. Sai già vota qua, vota qua, vota qua. Non so ancora cosa sia ma so che ora tu mi chiederai. Consiglio Nazionale a Studenti Universitari. Per il CNSU. Puoi votare anche tu. Una X ed è pronto. Oh, vota la lista 3. Puoi votare Tommy, Tommy. Come se ci fosse solo Tommy, Tommy. Lista 3. Vota proprio Tommy, Tommy. Il tuo soggetto è questo qua, questo qua, questo qua. Sai già chi vota, chi vota, chi vota. Per il CNSU. Puoi votare anche tu. Una X ed è pronto. Oh, vota la lista 3. Puoi votare Tommy, Tommy. Tommy, Tommy. Come se ci fosse solo Tommy, Tommy. Il tuo soggetto è questo qua, questo qua, questo qua, questo qua. Sai già chi vota, chi vota, chi vota. Perché? Perché insieme è un'altra storia. Il 14 e 15 maggio vota Tommy, lista 3. Ateneo Studenti Student Office. Chi vota, chi vota, chi vota. Chi vota, chi vota. Chi vota, chi vota. Chi vota, chi vota. 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 Chi